Che vuoi? Uomini e donne, la scelta di Teresa e Andrea, Antonio ha smesso di corteggiarla Uomini e donne, la scelta di Teresa e Andrea, Antonio ha smesso di corteggiarla. Le puntata del trono classico di Uomini e donne, andate in onda giovedì e venerdì passati, sono state davvero molto movimentate. Soprattutto per quanto riguarda il trono di Teresa Langella, ci sono stati dei colpi di scena assolutamente inaspettati. Antonio, infatti, ha deciso di non corteggiare più latronista poiché ritiene che la ragazza non abbia le idee chiare e stia giocando con i suoi sentimenti. Il ragazzo è convinto che Andrea dal corso sia la sua scelta. Uomini e donne, Antonio dà buca a Teresa per due volte, lei bacia Andrea. Il trono di Teresa Langella è stata infuocato dal corteggiatore Antonio. Il ragazzo, infatti, ha deciso di non presentarsi in esterna spiegando allatronista che fosse adirato con lei a causa dei suoi comportamenti contraddittori e delle sue continue attenzioni verso Andrea. Il ragazzo è stato estremamente ferreo nella sua decisione, difatti, ha deciso di dare buca a Teresa anche dopo che questultima si è recata sotto casa sua per parlargli. . Una volta entrato in studio, il ragazzo ha continuato a mostrare tutto il suo malessere e disprezzo per la circostanza. . La situazione, tuttavia, è degenerata quando è andata in onda lesterna del suo rivale. Antonio smette di corteggiare Teresa e va via da uomini e donne. . Teresa e Andrea, infatti, si sono lasciati andare ad unesterna bellissima durante la quale è scattato anche un meraviglioso bacio. . La visione del filmato non è stata chiaramente apprezzata da Antonio il quale, più furioso che mai, ha deciso di lasciare la trasmissione e non corteggiare più Teresa. . La Langella è rimasta male anche se non ha provato a rincorrerlo, lasciando che il ragazzo si allontanasse definitivamente dagli studi Mediaset. . È davvero tutto finito tra i due? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. .